Ciao, sono Silvia Platania, insegnante di pianoforte, oggi ho una questione da risolvere perché sulla mia chat sia Lucio che Nico che altre persone hanno parlato dell'ansia da prestazione ovvero per esempio Lucio scrive ormai sono tre mesi che studio My Way quasi tutti i giorni e se la suono per me viene bene rilassata ma se tento di registrarla faccio errori e dopo molti tentativi rimane qualche piccolo inceppamento non fluidità vorrei farla sentire al mio maestro di chitarra e al mio amico pianista e quindi vorrei farla bene quindi questa non è una questione che mi propone su Lucio sono questioni che ritornano e tornano più e più volte perché fin quando siamo nel buio della nostra cameretta e sogniamo da soli tutto viene molto in maniera fluida e serenamente quando abbiamo imparato un pezzo se arriva il cane, arriva il postino, arriva tua madre, arriva una chiama qualsiasi cosa che disturbi il tuo equilibrio e la tua serenità cosa succede sbagliamo allora è importante soprattutto se poi ti capiterà di suonare in pubblico e questa cosa ti rende molto frustrato perché riuscire a suonare è una conquista ed è bello anche condividerla con le persone che ci stanno vicine se non lo fai come professione ma soprattutto se lo fai come professione è necessario condividere la tua abilità il pianoforte lo strumento che suoni anche con gli altri perché diversamente non ci vivi molto bene e quindi bisogna scontrarsi contro questo limite che è quello di studiare benissimo il pezzo a casa viene meravigliosamente bene e poi davanti a qualcuno questa cosa comincia a decadere e comincia a fare errori concentrati sull'errore che hai fatto prima e doverti fermare insomma i peggiori incubi che possa avere un musicista quindi come in ogni analisi bisogna capire qual è il perché succedono queste cose non basta dire perché la paura e perché l'ansia non basta dire queste cose perché non c'è una soluzione alla paura cioè la paura anzi è un qualcosa di necessario che il nostro corpo un segnale che nostro corpo ci dà perché si percepisce che in quel momento c'è un rischio noi dobbiamo analizzare i perché succede questa cosa innanzitutto come mai cominci a sbagliare quando sei all'interno di un saggio di un concerto stai suonando per qualcuno il primo perché che mi disse la mia insegnante di pianoforte ai tempi del conservatorio mi disse questo quando ti trovi davanti a un concerto cioè durante un concerto e devi suonare un pezzo ricordati di suonarlo più lento di quello che normalmente faresti perché perché se lo suoni al tempo che ti sembra quello che prendi tutti i giorni lo farei più veloce in quanto il tuo battito sarà un accelerato per la paura e quindi il tuo livello di riferimento che è il tuo battito cardiaco il tuo battito cardiaco a riposo in quel momento sarà totalmente starato e quindi tu prenderai un'esecuzione che avevi pensato lentamente che avevi passato una certa velocità quando lo stavi studiando da solo la prenderai a una velocità terrificante facciamo già solo un esempio con una scala se tu normalmente fai una scala questa velocità quando sei davanti un concerto è il cuore che batte fortissimo prenderai e ovviamente non ti verrà perché troppo veloce le finita non sono preparate questa velocità e quindi andrà un po tutta scatafascio ovviamente adesso la scala era un esempio solo per che si si applica poi con tutti i pezzi e con tutto il resto il secco quindi primo motivo è il battito cardiaco che ti fa aumentare la velocità di esecuzione del brano secondo motivo è che se ti trovi davanti uno spartito non sarai tranquillo come eri a casa e questo a me capitava sempre saggi che cosa succede quando legge uno spartito un po l'occhio e sullo spartito un po sulle mani un po sullo spartito un po sulle mani e si ha un equilibrio fra questa transazione fra la transizione fra lo spartito e le mani ma durante un concerto sei molto spaventato perché paura di perdere il segno paura di aver letto male le note e quindi gli occhi saranno molto più attaccati allo spartito e in questo modo tu avrai meno riferimenti sulla tastiera e rischierai più spesso di sbagliare perché vai proprio inceppare quel meccanismo naturale che avevi sviluppato quando leggeri lo spartito e suonavi a casa nella tua tranquillità purtroppo durante i concerti e questo terrore di perdere il segno di perdersi di non aver letto bene le note e quindi quest'ansia ti fa sbagliare quindi questo secondo problema il terzo problema ovviamente è la paura del giudizio tu sei davanti alle persone che sono tutte lì perché guardano te con un sacco di di attenzione hanno addirittura lo spartito davanti vedono se stai facendo tutte le note ovviamente non è così e quindi ti senti sotto giudizio ti senti nudo davanti a dei giudici e questa cosa ovviamente ti mette particolarmente a disagio e fa sì che non ti concentri sull'unica cosa che invece dovresti pensare quando suoni ovvero godere di quello che stai facendo emozionarti e tu come strumento che si emoziona trasmettere questa emozione agli altri perché è come se tu fossi un attore ma non un attore che fa finta di provare delle emozioni ma come quegli attori che davvero si immedesimano in quello che stanno recitando e quindi con quelle medesimazione riescono a stimolare i nostri neuroni specchio che ci fanno provare poi le stesse sensazioni quindi la tristezza la rabbia l'amore tutte quelle cose in cui noi ci immedesimiamo se noi durante il concerto non riusciamo minimamente a fare questo lavoro di immedesimazione all'interno di quel pezzo di quel brano e non riusciamo a provare quei sentimenti cosa possono provare le altre persone possono trovare solo quello che proviamo noi la tensione fattivo cioè non frequento i saggi normalmente per tutto mai dall'inizio alla fine perché percepisco il sudore freddo degli allievi quanto stanno male quanto sono emozionati e terrificante cioè sono le cose più ansiogene peggio che i crime sono i saggi tutti si emozionano questi crime che vanno tanto di moda su youtube andate a un saggio andate una maturità quello è molto peggio dei crime percepite veramente la stato di tensione che manca una corda tesa del pianoforte con 20 kg di tensione fa questa 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 tensione detto questo questo era l'ultimo punto di analisi più o meno delle perché durante un concerto ci emozioniamo e le cose non vanno come vorremmo adesso passiamo alle soluzioni perché sennò cosa serve solo esser consapevoli è già un passo avanti ma bisogna anche trovare delle soluzioni allora soluzione al problema del tempo se tu ovviamente ben detto che ha il cuore accelerato e quindi comincerà in maniera più veloce il brano lo sai e quindi la mia professoressa assolutamente mi aveva dato un consiglio utilissimo ovvero comincia il brano in maniera più lenta di quello che ti aspetteresti ok questo ovviamente adesso non sono tesa perché sono da sola nella mia cameretta e nessuno mi sta ascoltando ma è il tempo a cui farei questo pezzo nel momento in cui il mio cuore non è più a 62 battiti al secondo ma è a 80 perché sono tesa perché sono appena andata al pianoforte mi sono aggiustato lo sgabello ho fatto fatica e quindi già sono agitate in più il mio cuore è salito ancora di più non posso pensare che questo sia il tempo di riferimento sicuramente lo farò e quando arriverò alle scalette sarà un pasticcio perché non verranno a parte che adesso non mi vengono perché le mani fredde ma anche al concerto normalmente non è che hai suonato fino a un secondo prima quindi avrai le mani fredde avrai preso il pezzo più velocemente e quindi sarà un vero macello quel quell'esecuzione quindi prendila con più calma respira connettiti col pianoforte soprattutto quando prima delle parti più difficili certo di pensare a non scappare perché ti verrà proprio da scappare per toglierte le prima possibile ma è proprio quella la genesi dell'errore quindi importantissimo arriva il pianoforte fai tutto quello che devi fare alzati lo sgabello se le mani non sono calde scalda tele non c'è niente di male a volersi scaldare le mani prima di suonare è una roba normale respira il respiro ci aiuta a calmarci invece cosa fa normalmente un allievo quando deve fare un concerto arriva un saggio arriva e se la vuole togliere se lo vuole togliere prima possibile quindi si butta sul pianoforte come uno squalo su una una foca giusto per avere degli esempi decenti e succede quello succede che sbaglia poi tutto perché se la vuole togliere ma togliendosela non farà una grande cosa anche perché non connetterà minimamente col pubblico anzi farà finta che non esista questo pubblico e questa cosa paradossalmente sarà il peggior errore perché invece il pubblico che ti aiuta a condividere quello stato d'animo e tu in qualche modo riesci a donare quelle emozioni di grande agitazione facendola invece diventare un'emozione che condividi con tutti e questo è uno dei motivi per cui quando sentiamo parlare uno speaker molto importante in una conferenza normalmente nuotalo quasi tutti cominciano dicendo che sono molto emozionati che sono questa cosa è particolarmente emozionante per loro che sperano di riuscire a fare tutto al meglio ma perché lo dichiarano perché dichiarandolo in quel momento stanno condividendo quello stato d'animo con il pubblico e in quel modo avranno un pubblico alleato e non giudicante perché avranno stimolato nel pubblico la stessa sensazione che tutti hanno provato almeno una volta nella vita ovvero di essere davanti agli altri dover parlare dover suonare dover fare qualcosa di importante bene quindi questo per quanto riguarda il battito cardiaco ovviamente sono importanti a prescindere dal momento del concerto degli esercizi di respirazione e rilassamento noi non possiamo controllare il battito cardiaco perché battito cardiaco è regolato dal sistema autonomo del nostro sistema nervoso ma possiamo uscire attraverso degli esercizi di per esempio mindfulness o meditazione o consapevolezza corporea riusciamo a abbassare tutti quelle quelle azioni spontanee su cui abbiamo un controllo per abbassare anche il nostro ritmo cardiaco non è facile non si può improvvisare il giorno prima del concerto ma se lo fai tutti i giorni esercizi di respirazione concentrazione consapevolezza questi ti possono aiutare tantissimo anche durante i concerti altra cosa che abbiamo visto prima era la memoria e quindi il check il doppio check dello spartito cosa succede appunto ben detto che nel momento in cui suoniamo il pianoforte in un concerto siamo molto più attaccati allo spartito rispetto a quando siamo a casa e quasi lo sappiamo a memoria col brano anche per questo la soluzione migliore è essere consapevoli di questo fenomeno e quindi fare delle prove precedenti a casa in cui ci rendiamo consapevoli di questo doppio check che facciamo e cerchiamo di tenere gli occhi più incollati possibile lo spartito per avere una mappatura del brano a livello tattile lo so che è una cosa strana perché tu diresti no ma non lo devo imparare a memoria dipende se il concerto o il saggio lo fai a memoria certamente questo deve essere imparato a memoria ma se terrai lo spartito e lo sai già a memoria rischi di fare un pasticcio perché tenderai a guardare lo spartito a guardare un po le mani guardare lo spartito e studerà un casino invece abituati a casa a tenere gli occhi incollati allo spartito in questo modo si ruperà il la mappatura nelle mani e non sarai impaurito durante il saggio a perdere il segno perché avrei già abituato l'occhio stare molto di più sullo spartito terzo consiglio il terzo e poi le mani mi manca solo uno il giudizio la paura degli altri allora ti ho già detto prima che è uno dei modi migliori per esordire ovviamente se stai parlando in pubblico non si stai suonando e dire che sei emozionato dichiararlo quando sei invece davanti a un saggio cioè in un saggio non puoi ovviamente andare lì parlare anche se devo dire che quando io faccio dei concerti cerco subito di stabilire un contatto parlando presentando il brano perché è un qualcosa che ti aiuta a uscire fuori da questa nuvola di dd di silenzio in cui dalle tue mani di venire fuori qualcosa allora ti svelo una cosa che mi serve tantissimo quando suono e faccio dei concerti nei migliori dei casi su dieci persone mettiamo 100 persone che ci sono tre staranno attenti a quello che stai facendo il resto delle persone si sarà facendo i cavoli propri o con un cellulare davanti nel peggiore dei casi o col programma di sala o nel migliore dei casi starà facendo finta di ascoltare guardando nel vuoto nella tua direzione ma starà pensando a che cosa mangerà stasera cena perché l'amica ha detto questa cosa al tuo fidanzato e tu non volevi che gliela dicessi gliela dicesse o perché quell'altra amica non si è ricordata il tuo compleanno questi sono i pensieri che se tu immagini di ascoltare i pensieri della sala mentre stai suonando sentirai queste cose ma perché cosa facciamo domani a cena dove andiamo in vacanza quest'estate magari prenotiamo un volo qui questi sono i pensieri normali lo dico non perché ho la sfera di cristallo riesco a sfruttare i pensieri degli altri ma perché anche nella mia ciao all i voli ecco vuole ha detto mia o è d'accordo anche nella mia carriera di ascoltatrice e quindi persona che andata ad ascoltare concerti è difficile mantenere l'attenzione soprattutto se è la dh di come me ma è difficile mantenere l'attenzione tutto il tempo e quindi probabilmente tutta la tua angoscia per l'attenzione che hanno le persone nei confronti non è motivata perché non ti sta ascoltando nessuno proprio nessuno forse 23 persone ma è già tanto e probabilmente sono i tuoi genitori o il gatto quindi come come utilizzare questa cosa dalla nostra parte il contrario cioè tu cerca di stabilire diversamente un contatto con le persone quindi guardale guarda nel pubblico guarda in quella direzione aspetta prima di suonare non buttarti sulla tastiera senza cognizione utilizza il silenzio come arma e poi dopo cerca di attirare la loro attenzione lo so che è un concetto assurdo perché tu vorresti sparire in quel momento ma invece proprio quello il bello cioè il farli partecipi hai presente quando sei con degli amici e ti senti escluso perché parlano fra di loro e oppure quando sei con una persona che si parla addosso tu cerchi di intervenire ma non ti ascolta nemmeno ecco bruttissimo invece falla partecipa se la fai partecipe quella persona diventa un tuo alleato non diventa solo quello cui somministri la tua arte a cui fai questo i suoni dei pezzi no diventa una persona con la quale interagisce ed è questa la magia della musica ultima cosa la musicalità e l'espressività quando suona in concerto se tu sei concentrato sulla performance sulle note giuste non sarai concentrato sulle emozioni oddio c'è una cimice del pianoforte c'è una cimica se si vede c'è una cimice no non si vede comunque adesso poi finisco il video e la tolgo anzi la tolgo subito perché questa roba qua se mi va dentro non ok grazie ecco cioè volete vedere la cimice è qua molto bene emozioni durante il pianoforte sopezzo non lo taglio perché bisogna rimanere emozionati però la tengo vicino alla cimice così finisco in fretta perché se non poi se ne va nei circuiti detto questo le emozioni che provate al pianoforte vanno trasmesse perché se non le trasmettete stiamo di nuovo facendo qualcosa di sferile quindi trasmettiamo le emozioni mentre sogniamo e se c'è una cimice nel pianoforte come in questo caso la salviamo a presto e al prossimo video ciao